I numeri spaventano e ci raccontano di tante e troppe persone che quotidianamente si trovano davanti ad una terribile scelta tra acquistare del cibo oppure un medicinale per potersi curare. Il 2021 sicuramente peggiore del 2020, circa 600.000 le persone che vivono in situazioni di povertà sanitaria, il 37% in più dovuto alla crisi economica causata dall'arrivo della pandemia. Mai, come in questo periodo, la solidarietà e la generosità diventano un gesto fondamentale di grande vicinanza tra le comunità. Attraverso la giornata nazionale del farmaco viene offerta a tutti noi la possibilità di acquistare uno o più medicinali da banco in una delle 5.000 farmacie che aderiscono a questa iniziativa. Le persone sono estremamente generose, soprattutto che dopo due anni di Covid la povertà sanitaria è diventata molto pregnante, si è diventata molto concreta. E quindi c'è da parte degli utenti un aiuto considerevole e oggettivo nei confronti delle persone meno abbienti. Se consideriamo che l'altro anno sono state comprate presso le farmacie, le circa 5.000 farmacie, oltre 500.000 confezioni, capiamo bene che è un grandissimo aiuto che il Banco Farmaceutico riesce a dare nei confronti delle persone con povertà sanitaria evidente. Donare per curare, quindi piccolo o grande che sia il gesto di solidarietà, sarà importantissimo per noi e per chi lo riceverà. Ricordiamo che per acquistare un farmaco da banco da donare c'è tempo fino al 14 febbraio. Questo è un atto d'amore che le persone fanno nei confronti delle persone meno abbienti ed è un atto d'amore assolutamente spontaneo che nobilita quello che è la carità e l'atteggiamento sociale e soprattutto altruistico che le persone in genere hanno nei confronti di chi non ha quelle possibilità che altri hanno.